bella a tutti ragazzi sono TheLagion42 sono entrato in questo nuovissimo video di minecraft in una custom map questo custom map si chiama Los Aliens quindi adesso andremo a leggere regole le regole questo parla di un personaggio di Ethel il nome è Ethel qua abbiamo detto al giorno chiudiamo ok regolamento questa storia parla di un ragazzo che deve andare a degli allenamenti come vedremo dopo per far vedere cosa ha imparato del suo combattimento e però il suo amico non c'è ma è una storia lunga ma in breve sarebbe che scopre dopo fare questi libri che poi si chiamerebbero rivelazioni scopre che gli alieni vogliono distruggere tutto quello che c'è sulla terra quindi leggiamo il regolamento regolamento ciao benvenuto nella prima custom map creata da B ma non riesco a leggere il nome e insieme a xpeppe95 e comir trovare il regolamento nella pagina successiva regola numero 1 gioco almeno a difficoltà normale settare la distanza di rendering su normale lontano passiato regola numero 3 a 7 alla 1 minuti almeno al 20% regola numero 4 per conoscere la storia come si deve leggi i diari in ordine numerico regola numero 5 trovi gli occhi sì questi punteggi sono scosti bene 8 easter egg posti posto uno screen nel foro o nella pagina facebook no, 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 no al diffuggerlo con blocco almeno che non viene richiesto sì ok quindi il regolamento lo teniamo qua leggiamo giorno 1 cavoli è già così tardi non posso mancare l'allenamento che mi permetterà di dimostrare i miei dati da guariero devo recarmi al parco vicino alle chiese da dove mi attenderà un mio caro amico ok ok adesso scusate stop un attimo il video perché mi sono dimenticato una cosa fondamentale il timer ok eccomi di nuovo ragazzi quindi adesso possiamo andare allora vediamo io avevo già registrato un altro video prima di questo però eravato anche un bel punto solo che mi sono dimenticato una cosa non avevo il timer era rotto quindi è arrivato a 15 minuti e 29 secondi al posto di 15 minuti perché come sapete il massimo che posso caricare è 15 minuti prima cosa sta laggando perché ho già settato tutto come potete vedere il server off off particelle ridotte dimensione gui ahhh normale off off veloce normale ok possiamo vedere qui no vabbè una cosa che non avevo notato dall'altro episodio qua dietro c'è una cassa pensate che vado a vedere o c'è qualche cosa di nascosto oppure ah no ecco ecco c'è un punto non l'avevo visto nascosto l'episodio ok andiamo a vedere un po' magari c'è qualcos'altro no non c'è niente quindi possiamo andare avanti ah mettiamo il giorno 1 qui quindi dobbiamo andare alla chiesa vi dico che questa mappa è bella l'unica cosa che si possono spaccare deve avere le cesoie si possono spaccare le foglie però solo con le cesoie quindi adesso andiamo tanto io so già la strada e questo è il brutto so già la strada e quindi so già cosa mi aspetta comunque farò finta che non c'è una meraviglia allora vediamo cosa c'è qua allora c'è una fontana con una cassa amici si si rivelazioni 1 bene leggiamo amici si si ma qui non c'è nessuno mi sa che che se ne è dimenticato aspetta ma qua c'è un diario prendiamo questo rivelazioni 1 caro diario oggi è stata una giornata molto estrenuante mi recherò alla taverna avere un bel calice di birra mettiamo questa qua yep quindi possiamo andare alla taverna dov'è la taverna io mi sono dimenticato è qua la taverna mi è permesso qua non ho una taverna troppo pi no non voglio commerciare con te allora qui è una taverna salve questa è una taverna ti ammazzo eh ti ammazzo è una taverna eh non è una taverna scusate bene possiamo entrare nella taverna lo scorso episodio qua c'era un creeper ho otto una cassa giorno uno di due vediamo un po' cosa ha scritto io non mi ricordo i diario quindi chissà che ha scritto questo diario insomma è molto antico sarà meglio che perlosti la zona per capirci un po' di più mettiamolo qua adesso io non mi ricordo neanche i punti di queste qua che sarebbero i punti ok se niente l'esperienza di xmoorri mi dice che devo cercare nelle fornaci l'esperienza che ho imparato da xmoorri che devo cercare nei dispensers e nelle fornaci anche se qua non c'è niente facciamo un ulteriore test ok no non c'è niente perfetto andiamo di qua giù un gabinetto oh sono caduta nel gabinetto bene allora si può riservare eh deve avere le cesoi dove sono le cesoi ah ecco le cesoi bene rivelazione 2 ho scambiato di posto scusate caro diario sento dei rumori strani di fuori sembrano essere delle ur scusate sono tutti recati in chiesa farò meglio ad andarci per capirne di più qua vedo delle cesoi cioè vedo delle ecco infatti vedevo delle foglie quindi c'è un punto quindi adesso posso risalire ok ah qua è un bug della mappa non riesce a salire perché doveva essere di qua adesso non riesce a salire quindi bisogna per forza spaccare ma sono dettagli qua è un bug della mappa ho scoperto anche io non ho scoperto prima cercavo di salire ma non ci sono riuscito quindi adesso dobbiamo andare in chiesa aspettate guardo abbiamo ancora poco tempo ci richiamo in chiesa a pregare la 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 comunque vi caricherò un po' più di episodi o se no potrei fare finire qua il video e caricarne un altro che ne dite? che ne dicete? si dai faccio finire qua l'episodio quindi ci si rivede presto quando caricherò il video lo caricherò quasi sicuramente dopo poco tempo neanche passato un giorno forse li ricarico anche insieme no vabbè dai ricarico prima uno poi l'altro quindi date ragion 40 da tutto ciao a tutti